Si concludono oggi al Parco delle Cascine di Firenze i mondiali antirazzisti organizzati dalla WISP per ribadire che la battaglia ad ogni forma di razzismo parte anche da un campo di gioco. Antonella Morelli. Ci si sfida a calcio a 5 e a pallavolo. Si può provare il pugilato e la danza integrata. C'è il torneo di ping pong e di calcio balilla per i più piccoli laboratori di falegnameria. Attività sportive non solo, per tutte le attitudini. Ai mondiali antirazzisti organizzati dalla WISP nel più grande parco di Firenze. Non soltanto un'opportunità per misurarsi con gli altri. Nella tradizione della WISP lo sport è occasione di confronto e di inclusione e lo fa anche in questo festival. Giovani di vari paesi si sono ritrovati anche per parlare di ambiente, disabilità, scuola e periferie per riflettere sul fatto che lo sport è uno strumento di emancipazione sociale per conoscersi e combattere le disuguaglianze. Dibattiti seguiti dalla pratica perché niente di meglio può suggellare l'inclusione di giovani di provenienze diverse uniti in una stessa squadra. E per mettersi ancora più alla prova, niente arbitri esterni. Le competizioni sono autoarbitrate nel segno del fair play. Quando il gioco si fa serio, i seri cominciano a giocare.